Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRMH24. E' stato presentato a Potenza il report sull'economia lucana che cresce ma ci sono delle criticità. Si scrive economia lucana, si legge estrattivo e automotive. Continuano a essere questi due comparti gli elementi trainanti del tessuto produttivo in Basilicata. Una sintesi che non dà pieno merito al report che come di consueto è stato presentato dalla Banca d'Italia e che analiticamente quest'anno ha raccontato lo stato dell'economia lucana nel 2022 rispetto al 2021. Nello scorso anno è stata registrata una crescita del Pile Lucano del 3% per quanto riguarda le imprese. Il valore aggiunto industriale si è contratto dell'1,5%, un dato che ha risentito dell'andamento del comparto automobilistico. La produzione dello stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi infatti si è confermata sui bassi livelli del 2021. Le vendite invece sono scese sotto i valori del 2020. Nell'estrattivo, continua a raccontare lo studio, si è invece ridotta la quantità di petrolio prodotto facendo registrare un meno 9%, ma considerato che il valore della produzione è stato sostenuto dalle alte quotazioni, le royalties sono aumentate del 71%, portandosi a 160 milioni di euro. Un focus specifico è stato riservato alle risorse del PNRR e in base ai dati più recenti risultano assegnati a soggetti a trattatori pubblici 1,6 miliardi per investimenti da realizzare in Basilicata, un dato a livello pro capite che è superiore alla media italiana. Inoltre fino allo scorso aprile le amministrazioni locali lucane hanno bandito gare per valore stimato di circa 184 milioni di euro alle opere di costruzione e sono state destinate circa 700 milioni di euro. Ma assolutamente il comparto automotivo è il comparto principale della manifattura dell'industria della Basilicata e quindi a livello di economia regionale deve, se mi permette, non solo preoccupare ma occupare. È stata registrata una crescita anche nel terziario col 4,4%, mentre nel turismo le presenze sono cresciute del 23,6%, rimanendo però sempre inferiori ai livelli del 2019 e nell'agricoltura il valore aggiunto si è contratto del 3,3%. Per quanto riguarda il mercato del lavoro del 2022 il numero di occupati è rimasto stabile almeno 0,2%. Sulle famiglie invece nel 2022 il potere d'acquisto delle stesse è stato eroso dall'alta inflazione. In termini reali il reddito delle famiglie è calato del 2,6% al fine 2022, l'inflazione si è attestata al 9,3% sui 12 mesi. Il sistema sanitario lucano sotto la lente di ingrandimento della Fondazione Gimbe, la soddisfazione dell'assessore Fanelli. La regione basilicata mostra risultati positivi e progressi significativi in vari ambiti sanitari secondo i recenti report della Fondazione Gimbe e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. L'assessore regionale alla salute politica della persona della Basilicata Francesco Fanelli ha recentemente difeso l'efficacia del sistema sanitario regionale citando i dati Gimbe e il report della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. L'assessore ha sottolineato come i dati evidenzino la bontà e l'efficacia delle azioni intraprese nel 2022 ma che servono anche ad identificare i punti critici per un costante miglioramento. Secondo Fanelli l'assistenza territoriale, la pediatria, la qualità clinica e di processo, l'integrazione ospedale-territorio, l'appropriatezza chirurgica e medica, la capacità di governo della domanda mostrano risultati positivi. Inoltre l'efficienza prescrittiva farmaceutica, la salute mentale, le cure palliative, il materno infantile e la sanità digitale sono ambiti in cui si stanno facendo progressi. Le statistiche della Fondazione Gimbe mostrano che il recupero delle prestazioni totali relativi alle liste di attese è del 46% con un'ottima, dice ancora Fanelli, performance per il recupero delle liste d'attesa per i ricoveri chirurgici programmati del 91%. Per gli inviti agli screening oncologici e per le prestazioni di screening oncologici, la percentuale di recupero è del 100%. Tuttavia, vi è ancora margine di miglioramento per le prestazioni ambulatoriali dove il recupero è del 34%. A dispetto delle critiche, l'assessore Fanelli sostiene che i dati parlino chiaro. La sanità lucana sta facendo progressi, dice ancora, combattendo con forza la disinformazione e l'opportunismo. La strada è ancora lunga, ma bisogna guardare la realtà con lucidità. Continuano le minacce nei confronti dei carabinieri dopo la morte del 27enne Cristian Di Gioia, sfuggito a un posto di blocco dei militari. Il sindacato dei carabinieri chiede alla magistratura di divulgare le immagini di videosorveglianza per eliminare qualsiasi dubbio sul possibile coinvolgimento della pattuglia. Chiediamo che le immagini di videosorveglianza vengano divulgate così da eliminare qualsiasi dubbio su un possibile coinvolgimento da parte della pattuglia dei carabinieri nella morte del 27enne Cristian Di Gioia. Lo chiede il segretario regionale della Puglia del nuovo sindacato dei carabinieri, Nicola Magno, in riferimento all'inchiesta della procura di Bari sulla dinamica dell'incidente stradale avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 giugno nel capoluogo pugliese in cui è morto il giovane motociclista sfuggito ad un posto di blocco dei militari. Dopo l'incidente sui social sono state infatti pubblicate minacce di morte ai carabinieri da parte di chi ritiene ci siano responsabilità dei militari nella caduta del 27enne. Ipotesi questa esclusa dalla polizia locale. Nelle scorse ore l'auto con il feretro del motociclista è stata fatta passare contromano davanti al carcere di Bari, scortata da numerosi scooter in un vero e proprio corteo. E due persone sono state arrestate per aver minacciato in strada dei carabinieri e per aver danneggiato le loro auto. Episodi che secondo Magno riconfermano che vi è una conclamata e paradossale criticità di sicurezza nelle strade di Bari, laddove la parte marcia si prende gioco dei servitori dello Stato come se fossero al di sopra della legge intoccabili. Inutile negare che siamo spesso strumentalizzati e fatti passare come l'anello debole della catena, ha poi concluso Magno. C'è chi vorrebbe l'esercito per le strade in supporto alle forze dell'ordine, ovviando così al problema della reale necessità di rafforzare gli organici. Concorso in arsenale a Taranto da opportunità flop totale, intervengono i sindacati nazionali di categoria pronti allo sciopero. Atteso quattro anni il concorso all'arsenale di Taranto, partecipano in 5.200 per 315 posti, comunque insufficienti a fronte dei 10.000 posti vuoti previsti tra 18 mesi al Ministero della Difesa, idonei alla fine solo in 160. Insomma una follia per i sindacati nazionali di categoria, considerato che si trattava peraltro di una selezione per partecipare a un corso di formazione di quattro mesi. Ci siamo trovati di fronte a delle domande assurde, delle domande anche sbagliate, contraddittorie. Le commissioni erano costituite, sono costituite soltanto da componenti della Marina Militare, compreso un infermiere, nonostante i nostri inviti al Ministero di allargare la partecipazione al personale civile, nonostante il nostro invito di fare una banca dati, come si fa in tutti gli altri concorsi, non dovevamo selezionare degli astronauti, ma degli operai, così come si raccontavano una volta, anche se adesso si chiamano assistenti tecnici. Perché non fare un mega concorso per sopperire a quei 10.000 posti vuoti, chiedono i sindacati, pronti a intensificare la protesta a Roma? Voi pensate la rabbia delle 5.000 persone che avevano partecipato a questa ruletta in cui speravano di vincere la lotteria della vita di un posto di lavoro. di un posto di lavoro, ma che risposte dobbiamo dare a queste persone? Noi ci sentiamo anche responsabili, è un sistema vigliacco e noi vogliamo giustizia, per questo come coordinatori nazionali di CGRC's del Will siamo intenzionati a acquire una mobilizzazione che è già in corso e a rendere le nostre iniziative di protesta pubblica nella capitale davanti al Ministero della Difesa ancora più incisiva. Volotea rafforza la propria presenza in Puglia, nell'aeroporto di Bari ha rinnovato l'accordo tra la Compagnia e Aeroporti di Puglia da Bari e Brindisi, 12 rotte in Italia e in Europa. La Puglia in questi anni esprime un potenziale turistico enorme e di questo si è accorto anche Carlos Munoz, fondatore e amministratore delegato di Volotea, che in questi giorni è in vacanze in regione, dove ha incontrato il presidente di aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile per rafforzare la presenza sul territorio della propria compagnia aerea. Un rapporto, quello tra la Puglia e Volotea, in costante sviluppo con 12 rotte all'attivo, 10 in partenza da Bari e 2 da Brindisi. Dal capoluogo si può volare verso Olbia e Firenze in Italia, Lione in Francia e Atene, Corfu, Creta, Mykonos, Santorini, Zante e Schiatos in Grecia. Da Brindisi invece partenze verso Cagliari e Nant. Con una crescita di posti in vendita del 36% rispetto allo scorso anno, Volotea punta sempre più sulla Puglia, da cui dal 2012, anno della sua nascita, ha effettuato oltre 21.500 voli, mentre nel 2023 si prepara a festeggiare il traguardo di 2 milioni di passeggeri trasportati da e verso il tacco d'Italia. Le possibilità in qualche momento più vicino che lontano di aprire una base, si parla dei prossimi anni, due anni, linea di massima a tre qui a Bari, non è ancora confermato ma è proprio una probabilità assai alta. Quello ci permetterebbe di aggiungere ancora molto più destinazione su quelle che abbiamo oggi. Il trasporto aereo, quindi la strategia del trasporto aereo è un po' come la moda, oggi noi stiamo costruendo il futuro, dobbiamo in questo momento che andiamo al massimo, quindi siamo così forti, la Puglia è al top delle classifiche, l'aeroporto di Puglia spinge sentendo il dovere di alimentare il turismo per la Puglia, questo è il momento di creare la base per gli accordi per i prossimi 5 anni. Un'offerta che non si limita a questo, infatti grazie al recente accordo con Eurowings i passeggeri pugliesi possono acquistare sul sito Volotea anche voli diretti da Brindisi verso le città tedesche di Colonia, Dusseldorf e Stoccarda. A Potenza la presentazione delle attività della Quadriennale di Roma, l'istituzione nazionale per l'arte contemporanea italiana. Il Palazzo della Cultura di Potenza ha ospitato la conferenza stampa di presentazione delle attività della Quadriennale di Roma, la fondazione è nata nel 1927 che ha il compito di promuovere l'arte contemporanea italiana con l'idea di accentrare in Roma le migliori produzioni dell'arte figurativa. La Quadriennale svolge una programmazione continuativa di ricerca e di promozione per favorire la conoscenza delle arti visive in Italia nel XX e nel XXI secolo. La presentazione sarà dedicata in particolare a due delle linee di attività avviate sotto la direzione artistica di Gian Maria Tossatti, panorama e quaderni d'arte italiana. Uno spazio in cui ci sarà anche una parte di Basilicata come ha spiegato Elisa Laraia, direttrice dell'App, il Laboratorio Arte Pubblica. L'appuntamento è un appuntamento fondamentale per la regione Basilicata e per gli artisti della regione Basilicata perché il direttore artistico di Quadriennale Gian Maria Tossatti ha proposto per questa edizione il progetto Panorama. Il progetto Panorama è una mappatura capillare del sistema dell'arte contemporanea, degli artisti contemporanei italiani. Ebbene io ho fortemente voluto che la Basilicata rientrasse in questa mappatura. Un'attenzione che è stata dedicata anche dalle istituzioni regionali ne è stata dimostrazione alla presenza della consigliera Dina Sileo. La Quadriennale in realtà ha preceduto quello che io ho previsto nella riforma del testo unico delle politiche culturali della Basilicata. Tra le novità proprio del testo unico c'è la mappatura degli artisti e un albo dei curatori. E soprattutto c'è un'ampia parentesi sull'arte contemporanea, sulle arti visive, sulla street art, su tutte queste forme nuove di arte che sono sostanzialmente emergenti in Basilicata e che hanno necessità ovviamente di essere normate ma soprattutto di essere promosse, scoperte e portate avanti. Tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci.